villanova siamo in centro paese oggi vi presentiamo questa bella porzione di casa col cortile completamente ristrutturata come vedete riscaldamento pavimento prodotto anti umido le pareti caldaia condensazione aria condizionata impianti tutti nuovi finestre vetro camera entrando abbiamo piano terra questo bellissimo soggiorno con un angolo cucina molto spazioso con una cucina su misura lo spazio divano se faccio vedere il bagno in piano terra un bagno anche questo rifatto con l'attacco lavatrice sanitario il lavandino tornando con l'ingresso saliamo con questa scala tutta resinata con il pavimento in resina della scala si congiunge con il pavimento effetto legno al piano primo troviamo il secondo bagno molto bello completo vasca sanitario nuovi e doccia nell'angolo disimpegno finiamo nella prima camera da letto una bella camera letto matrimoniale molto molto grande con uno spazio molto grande anche per tutta una cabina armadio seconda camera da letto sempre secondo piano camera da letto bimbi ma comunque sempre molto grande anche questa con il climatizzatore tutto questo annuncio con le foto complete virtual tour e tutto lo vedete sul nostro sito metrocasevillanova.it